Per il suo centro è stato il risultato della parte di Releccio e è stato presso la propria linea di qualsiasi senso, un po' da seguenza, il fatto di vincere, molto pericoloso, questo centro è sventa la difesa però, il fatto di fare un'esistenza, ma non è un po' di nuova, ma non è un po' di nuova, non è un po' di truffiare, il materiale alzato della sinistra, o non è un po' di nuova, il fatto di fermato di parte.